Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca, Gianluca Palodi, Gianluca Palodi è il tecnico responsabile della Hasselblad che collabora con FOVA, il portatore ufficiale. Oggi è qua per fare one to one dimostrativa, diciamo spiegazione professionale agli appassionati, clienti, professionisti per l'utilizzo della 900, cioè prevalentemente 907X, poi c'è anche X1D, Marco 2, cioè questo sistema nuovo è veramente fantastica. Bene, adesso chiedo, faccio qualche domanda, allora Gianluca, perché Hasselblad? Partiamo subito con un tema gigantesco, perché Hasselblad? Partiamo subito con una domanda impegnativa. Allora, togli pure la mascherina, perché così, cioè io tengo mascherina, tu puoi togliere. Ok. Ci teniamo distanza. Va bene. Allora, perché Hasselblad? Perché è un'azienda che da sempre ha significato per il fotografo professionista e non, la massima qualità possibile. E anche perché Hasselblad è un'azienda che comunque ti dà continuità nel tempo, cioè oggi siamo qua con un dorso digitale, appunto, CFW con il corpo 907 e siamo, diciamo, forse l'unica azienda che può, che rende, diciamo così, questo dorso compatibile con le macchine addirittura, come abbiamo in questo caso, la 500C fatta più di 50 anni fa. Quindi da sempre Hasselblad vuole dare continuità ai pochi fotomofi. Ancora oggi si usano le Hasselblad 500 in pellicola, tra l'altro c'è stato anche un po' un ritorno negli ultimi anni della pellicola. Comunque Hasselblad che ha sviluppato in parallelo, ha fatto una reflex che ancora oggi esiste, che è la serie H, è arrivata adesso con H6D. E poi, a fine 2016, con X1D, qua abbiamo la X1D2 che è l'evoluzione, che è questa almeno l'esmedio formato, di grande successo, praticamente offre una qualità molto elevata come ha sempre fatto Hasselblad, in più con un prodotto molto agile che si può portare in giro, addirittura c'è chi la usa per fare reportage o street photography. Poi arriviamo al dorso. Allora, Hasselblad non ha mai smesso di produrre dorso digitale. Diciamo però che questa volta, probabilmente il 907X è veramente il dorso che tutti aspettavamo. Prima di tutto perché è perfettamente compatibile con le vecchie Hasselblad, qua lo montiamo velocemente su un corpo 500C. Non abbiamo bisogno di nessun cavo, quindi la cosa bella è che Hasselblad, che chiaramente ha sempre progettato i propri sistemi, frutta il piccanello di consenso che si usa anche nel magazzino e qui prendiamo digitale la macchina, una vecchia macchina analogica. E lo facciamo in maniera... Quindi partiamo con un otteratore centrale... Esatto. La prima domanda che mi viene fatta quando io monto il dorso digitale sull'Hasselblad è cosa devo fare, come funziona, no? Io dico sempre, dimenticati di avere il digitale. Praticamente questa è una soluzione trasparente per l'utente. Adesso noi abbiamo sostituito il dorso porta pellicola. Io dico sempre, qua abbiamo un display, selezioniamo la sensibilità, quindi imposta la tua sensibilità della pellicola digitale, dopodiché dimenticati completamente di avere il dorso digitale. L'unico vantaggio, quindi continua, come facevi prima, grazie all'ottoratore centrale, avere la messa a fuoco manuale, tempi, diaframmi, quindi riarmare, perché io quando scatto poi chiaramente devo riarmare, quindi praticamente non mi accorgo neanche di avere il dorso digitale. Chiaramente ho dei vantaggi perché al di là... Vedi subito. Posso vedere subito, quindi prima ero costretto a usare magari un dorso polaroid per avere diciamo un'anteprima per capire se stavo sbagliando, oppure ero costretto a utilizzare magari un esposimetro perché non volevo sbagliare diciamo la foto. Qui poco male perché chiaramente si usa ancora l'esposimetro, ma poco male perché praticamente ho subito l'anteprima della foto. Quindi questo è un dorso digitale veramente molto interessante. La cosa bellissima è l'estetica che ricalca... Dove sta la batteria? Allora arriviamo a... Diciamo una cosa interessante appunto, la batteria, perché come dicevo prima abbiamo sempre prodotto già, se abbiamo sempre fatto i dorso digitali, prima la batteria era esterna e è una batteria a terze parti e quindi arriva un problema logistico perché talvolta era collocato qua sotto e quindi alcune macchine fotografiche, alcuni modelli di Hasselblad necessitavano di una staffa L e in più erano batterie terze parti non progettate per il sistema, quindi avevano una durata anche molto bassa. Qui invece usiamo la stessa batteria di X1D2, che è una densità molto elevata perché sono 3400 mAh e poi all'interno, al posto della vecchia CF che era uno slot singolo, abbiamo un doppio slot SD, dove chiaramente possiamo fare anche il backup istantaneo, quindi scattare su scheda A e avere il backup su scheda B. Poi arriviamo a quello che io definisco, non solo io, anche perché la mia opinione conta fino a un certo punto, questo è il corpo macchina medio formato più piccolo al mondo, appunto si chiama 907X, è il corpo di genio di Hasselblad perché praticamente qui noi cosa facciamo? Ci rendiamo compatibili con il mondo X, quindi l'X1D2, quindi posso utilizzare. Ma come si fa a comandare autofocus, messa a fuoco, esposizione e tutto quanto, in un'automacchina così sottile? Ma cosa c'è detto? Allora chiaramente la scelta di Hasselblad è stata quella, e avendo comunque poco spazio qui abbiamo un solo pulsante con una ghiera, quindi in realtà a livello di pulsanti non abbiamo tante possibilità, ci aiuta però tantissimo questa interfaccia unica che è stata introdotta appunto prima con il X1D2, touch, quindi che io posso navigare tranquillamente con le dita oppure anche con i pulsanti, quindi comunque un'interfaccia che in pochi istanti è facilissimo, perché io ho capito subito, cioè dopo dieci minuti ho capito tutto. Sì, e poi anche l'autofocus, io ho chiaramente un display touch, quindi posso tranquillamente con il dito andare a fare, come se fosse diciamo uno smartphone, a fare le mie messe a fuoco. Poi abbiamo comunque degli accessori, perché Hasselblad ha pensato anche al fatto che magari uno volesse sì la praticità, la bellezza diciamo di questo d'osso, ma magari un qualcosa di più pratico. Questa è l'impugnatura, è un'opzione che il fotografo può acquistare a parte e qua offre praticamente i tasti mancanti che erano per esempio sull'X1D2, quindi posso commutare l'autofocus, quindi fuoco manuale autofocus, settare gli ISO, settare diciamo così il bilanciamento del bianco e comunque dei pulsanti personalizzabili che posso quindi definire, decidere io come utilizzarli. E poi abbiamo le due ghiere, quindi mentre prima ero costretto a usare solo una ghiera, quindi solo automatizzare magari i diaframmi, adesso con le due ghiere posso, se sono in manuale posso cambiare a tempi i diaframmi. E poi, questa è un po' un'anteprima, cioè la prima volta che Hasselblad lo fa, un joystick per la messa a fuoco. Quindi di fatto in questa maniera ho una medio formato mirrorless al quale manca solamente diciamo il mirino elettronico. Poi esiste un'altra opzione, questo è un mirino dove io all'interno, serve per l'inquadratura, è stato fatto principalmente per l'utilizzo del 45 mm del 30 o del 21. Questo è il 21, per esempio che è l'obiettivo più grandangolare, per darvi un'idea questo equivale a 17 mm sul full frame. Il 30 qui oggi non ce l'ho, ma poi abbiamo il 45 che tra l'altro è un prodotto interessantissimo perché è un super compatto come obiettivo. E anche super economico anche. Sì, qua Hasselblad ha fatto un miracolo in tutti i sensi. Intanto è il più compatto e leggero, obiettivo medio formato e non dimentichiamoci che noi comunque abbiamo sempre, Hasselblad mantiene la tradizione del turatore centrale, cosa che i nostri concorrenti non hanno. E in più è anche super compatto nel prezzo perché il prezzo è poco superiore ai 1000 euro più in. L'unico problema è che arrivano pochi esemplari. Questo è un altro discorso. E questo è un attacco dolente, giusto? Qui purtroppo sì. Speramente perché venderanno una marea, no? Hanno avuto un successo in aspettare, anzi si aspettava ma non così tanto chiaramente. Certo. Perché questo prezzo, allora, le ottiche medio formato Asba non hanno compromessi qualitativi e hanno un prezzo importante ma rispetto alla qualità non costano cari. Certo. Però siamo abituati a ben altro perché prima del 45P l'entry level, ancora oggi, può essere un obiettivo come il 65, il prezzo è 2290 euro per i watt, quindi poco sotto ai 3.000 euro i watt. Qui si è fatto un piccolo miracolo. Però, ripeto, non è che gli altri obiettivi postano cari. E' proprio questo che c'è un motivo, credo, commerciale che Asba ha voluto rendere, diciamo così, disponibile un accesso alla macchina con l'obiettivo a un prezzo molto interessante. Ogni obiettivo che è Aldola contiene operatore ha pro e contro, no? Sì. E' pro e sincronizzazione, cioè silenziosità, assenza di vibrazione, tante cose. Contro e comunque consumabile. Quanti scatti durano mediamente? Allora, devo dire che avendo l'esperienza della serie H, che come durata media era intorno ai 100.000 scatti, qui non abbiamo, la garanzia di Asba è sempre di 100.000 scatti. Quindi hai una garanzia di un anno o due anni, di 100.000 scatti, quindi la garanzia rimane intatta. Devo dire che ad oggi, sono passati ormai quasi quattro anni dall'arrivo dei primi obiettivi, gli otturatori, diciamo, difettuosi, onestamente non hanno un po' lo stesso problema. Allora, semmeno noi abbiamo una marea di obiettivi che abbiamo avuto, non è mai tornato un obiettivo o un problema del otturatore. Quindi l'otturatore ad oggi, almeno in Italia, poi non so in altri paesi, qualcosa, magari sia l'otto, però devo dire una filibretta incredibile. Certo. E questo è molto importante, però il fatto di utilizzare l'otturatore centrale fa una differenza enorme. Prima di tutto, se utilizzi il flash, perché sincronizzi a tutti i tempi. Certo. Secondo, un altro motivo importante, magari per l'appassionato o per il professionista che non sta usando il flash, ma sta usando la macchina in mano, è il fatto che con l'otturatore centrale, avendo un sistema manuale, posso fare delle foto a dei tempi che con altre macchine fotografiche impensabili, se non dotandosi di un stabilizzatore. Certo. a dei fotografi, ho con me delle foto a un quindicesimo, un trentesimo, dove non c'è nessun tipo di vibrazione minima. Certo. E questo è appunto uno dei grossi vantaggi dell'otturatore centrale. Certo. Parlando di obiettivi, dicevo prima, inizialmente appunto, Hasselblad rende compatibile tutti i prodotti e non ha mai smesso di farlo anche verso, per esempio, la red, perché non dimentichiamoci che Hasselblad, chiaramente adesso siamo focalizzati su questo prodotto perché è più accessibile, il prodotto, diciamo, più moderno, ma abbiamo ancora H6D, che è la reflex, diciamo, di riferimento, chiaramente parliamo di un prodotto di fascia molto alta, disponibile da 100 o addirittura 400 in unipixel multishot, però continua a essere utilizzata dai grandi fotografi professionisti. Ma tutti gli obiettivi serie H sono compatibili e di tutto o ci sono sedie che non hanno? No, allora, sono tutti compatibili, tra l'altro abbiamo due adattatori, un adattatore semplice e uno, che è questo qui, la novità, l'adattatore con un'ottica dentro, si chiama 0,8x. Si, cioè, pazzesco. E praticamente... Questa è un'idea impressionante. L'idea qual è? Allora, intanto con l'adattatore semplice, che è ancora in produzione, perché chi non volesse, diciamo, questa lente, adesso vi spiego il perché, ci rende compatibili con tutte le ottiche della serie H, ok? A livello di compatibilità, l'ottica si comporta come se fosse un'ottica nativa, tranne l'autofocus, a meno che non si tratti di una serie H dell'ultima generazione, che sono le ottiche prodotte negli ultimi... Ma come si fa a promossere quelle compatibili o non compatibili? Vi faccio vedere perché ne ho qua una, praticamente le ottiche H dell'ultima serie, che quindi sono, diventano autofocus anche con... anche appunto utilizzandole con l'adattatore, si riconoscono perché hanno questo quadratino arancio. Quindi questo è l'otturatore nuovo, che è compatibile, quindi ha un processore più moderno, che è compatibile in autofocus anche su X1D2, X1D e su 907X. Quindi se non ci fosse quel segno, non va in autofocus, ma... Però funziona tutto, ed è... anche se non abbiamo l'autofocus, il fuoco è remutabile, cosa importante, quindi se io faccio... tutte le nostre macchine si collegano, diciamo, in tethering al computer, Mac e PC, e quindi quando utilizziamo il computer, scattiamo direttamente, memorizziamo, ma possiamo avere anche il live view per l'inquadratura e la messa a fuoco. Nonostante io magari possa avere un'ottica H che non è compatibile, cioè che non ha questo quadratino arancione, quindi non ha un nuovo votturatore, posso comunque dal computer remutare, quindi comandare la messa a fuoco remuto. No? Davvero? Sì, certo. Ah, questo non lo sapevo. Sì, infatti è molto importante sapere questa cosa qui, perché magari vuoi fare questo discorso qui e pensi invece che non sia compatibile perché non hai un'ultima ottica, ma in realtà il fuoco è comunque remutabile. C'è una sola eccezione al momento, ma magari dopo questa cosa qui verrà cambiata, che è il 120 macro, 120 macro anche l'ultima serie non è compatibile con un autofocus, il fuoco remoto rimane sempre. Quindi dicevo, invece il nuovo datatore, questo è uscito da pochissimo tempo, 0,8x, in realtà ha corsa le ottiche. Questo perché? Perché la nostra H6 di 100 non è un sensore comunque medio formato già come questo, ma ben più grande. Parliamo di 40x54, per darvi un'idea, è poco più piccolo della pellicola 6,4 e mezzo. Quindi cosa succede? Mettiamo il caso che un fotografo abbia già una serie H6 di 100 con un obiettivo un po' grandangolare che può essere un 24, un 28, un 35 e a questo punto compra X1D2, un 907X per affiancare, per avere, diciamo, come macchina per utilizzare le stesse ottiche. Voi capite che se io monto, se ho un grandangolare di solito perché ho bisogno di una certa... Angolo di campo, certo. Angolo di campo. E quindi con l'adattatore semplice un 24 mi dimentirebbe un 28, 30 e quindi perderei quello scopo che è il grandangolare che magari mi sono comprato proprio perché voglio magari il 24 che è quello più spinto. E non solo, poi cambia anche luminosità. Sì, certo, certo. E quindi l'ottica mi riporta perché è un 0,8x, quindi mi recupera quel 20% e mi rende anche l'ottica un pochettino più luminosa. Sì, cioè questa è una cosa, cioè, pazzesca, no? Sì. Cioè, e diventa ancora più luminosa. Sì. Questo è, pur mantenendo tutte le caratteristiche, Certo. Cioè, questa è una ritrovata molto interessante, molto interessante. Poi ci sono anche altri adattatori, magari non fatta da Hasselblad, che tanti giocano quando montano anche le ottiche di altre parti. Certo, allora Hasselblad produce, quindi abbiamo detto, due adattatori per la serie A. H, ne ha uno comunque per la serie V, perché io qua e anche sul Cogma 907 potrei montare l'ottica V, in questo caso l'ottica C. Attenzione però, quando uso degli adattatori non elettronici, quindi terze parti, appunto che ci sono prodotti da Hasselblad solamente per la serie V, H e X-Pan, dobbiamo usare l'otturatore elettronico. Se volendo, appunto, le terze parti fanno adattatori che mi risulta per Leica, per Canon, per Nikon, al momento sono tutti, diciamo così, manuali, ma mia, e quindi l'unica cosa è che devo usare l'otturatore elettronico, quindi ho dei limiti, per esempio non posso usare il flash. effetto. Però, appunto, abbiamo una compatibilità con più sistemi ottici. Cioè, bellissimo, no? Cioè, con il 907, andare con l'ottica Ryka M che è piccinino e che hanno una copertura anche molto interessante, no? Cioè, andare in giro, cioè, come se fosse una macchina più compatta. Sì, più, un'altra cosa che abbiamo detto del dorso, CFU, che noi adesso parliamo sempre chiaramente di Hasselblad, ma in realtà il dorso vegetale si può attaccare a qualsiasi technical camera, quindi una Sinal, piuttosto che una Cambo, una Alpa, una Silvestri, esatto. E tra l'altro è un qualche cosa che si utilizzava, se un po' meno, il professionista ha sempre, anzi, quando ho iniziato io a fare questo mestiere, circa vent'anni fa, i primi dorso digitali si andavano adattare, sia sulle vecchie ASBA o magari Mamia RZ, piuttosto che on-tax macchine così, ma soprattutto su banchi ottici. E questo è ancora oggi possibile. Certo. Allora, c'è l'ultima domanda scopola. Allora, macchina fotografica medio formato, insomma, anche altre case, no? Cioè, Softase One, o c'è Fuji, o Tentax, o c'è altre case. Perché dobbiamo scegliere Hasselblad? Dimmi. Allora, come dicevo prima, il professionista punta di solito alla massima qualità possibile. Quindi, anche se è vero che nel medio formato, noi come Fuova, appunto, abbiamo per esempio in casa Pentax, che ha una medio formato, la 645Z, conosciamo bene i concorrenti come Phase One, che rispettiamo tantissimo. Quando andiamo nell'ambito, appunto, di fascia molto alta, non c'è bisogno solamente di una buona qualità, ma ci vuole l'eccellenza. Per esempio, nel colore, noi come Hasselblad abbiamo un'esperienza e, diciamo, una grossa fetta di clientela per chi fa riproduzioni di altissimo livello. Lì, non è più il discorso di avere un incarnato piacevole o di un colore abbastanza preciso. Qua parliamo di situazioni in cui deve essere il più preciso possibile. Hasselblad ha sviluppato un sistema, al di là dell'elettronica, ma soprattutto con focus, un sistema che lo rende sicuramente migliore in assoluto. E quindi questo è importante perché, per certi tipi di lavori, di riproduzione, avere un file di partenza che si avvicina moltissimo all'originale vuol dire veramente tanto tempo risparmiato. Comunque c'è il profumo di Kodakron. Eh? Il profumo di Kodakron. Poi sicuramente... Hasselblad ha un profilo dolore che, secondo me, è caldo. Sì, diciamo che è molto piacevole. Poi c'è comunque un file molto bello, molto inciso. Però una caratteristica, per esempio, quando andiamo ad alzare la sensibilità, cosa che possiamo fare non solo perché abbiamo necessità di, diciamo, ci manca la luce, si crea un qualche cosa, 800, 1600, 3200 iso, dove si perde la classica secchezza del file, ma si arriva un po' a una... A una grana... A una grana... A una grafica. E la rende la scelta per quanto riguarda i molti fotografi che utilizzano. Esattamente utilizzano, alzando sensibilità per ottenere quella grana, no? Sì. E poi, parlando appunto di casi specifici, appunto, se io voglio fare un ritratto, appunto, con il dorso digitale, qui ritorno a fare il ritratto con il colpozzetto, ma lo posso fare anche con il 907X. Ah, certo. Tu sai benissimo che una delle cose belle dei ritratisti con Asbad è che si pongono davanti al soggetto con un qualcosa che non ti punta, no? Sì. E quindi probabilmente aiuta sempre a creare una maggiore empatia con il soggetto. Questo noi possiamo farlo anche con il 907X. Sì. Quindi credo che sia una cosa importante. Però, per rispondere, che poi ho un po' divagato alla tua domanda, io faccio sempre questo esempio, no? Citando alcuni concorrenti che hanno prodotti più che rispettabili, perché comunque noi conosciamo i concorrenti, li rispettiamo. Dico sempre, immaginate che siamo una Formula 1. La nostra macchina è progettata per essere sempre sul podio, perché ha delle raffinatezze a livello di gestione di colore, proprio una manipolazione resa del file, o sulle ottiche, o l'otturatore centrale. Quelle piccole cose che hai messo insieme però ti fanno vincere. I nostri concorrenti hanno una macchina per andare in Formula 1, per essere probabilmente schierati in griglia, ma non per essere vincenti. Poi, chiaramente, se non hai bisogno di vincere, scatta un altro elemento che, di solito, ti fa andare verso Asibar. L'elemento è la bellezza delle fotocamere. Nel senso che è comunque una grande ergonomia. Non è che sono belle, ma magari scomodano in pugnare. X1D2 è l'esempio di una fotocamera che è super compatta, perché tuttora 770 grammi di medio formato non esiste. Con un design, rispetto all'asso giudicale, ma che io in questi anni l'ho fatta vedere, migliaia di persone ormai l'hanno giudicata, è una bellissima macchina. Stessa cosa che si replica con 907X. Quindi, la tradizione svedese del design del grande Victor Asband, quindi il DNA dell'azienda, credo che sia ancora vivo. Questa è la cosa più importante. Quindi, rispetto a un concorrente nostro, che possiamo avere, anche qui faccio sempre un esempio automobilistico, perché a me piacciono delle automobili, è un po' come dire una Porsche 911 e una Nissan Z. La Nissan Z è una macchina che magari ha prestazioni molto simili, però… Nissan GT, cioè guarda che loro copre… Sì, però probabilmente il puro appassionato riconosce una 911 un qualcosa che… è immortale. E questa è probabilmente la differenza. Ed è il motivo per il quale credo che Asband sia, insieme a Laika, probabilmente gli unici marchi che rappresentano un qualcosa di unico. E poi comunque anche il valore nel tempo dei nostri oggetti ci danno… confermono questa cosa. Ripeto, senza non la togliere agli altri… i nostri concorrenti, e voi lo sapete benissimo, tu lo sai meglio di me, trattando appunto un marchio anche come Laika, che comunque anche se oggi i prodotti sono digitali, quindi hanno una svalutazione sicuramente diversa rispetto al prodotto analogico, però comunque nel tempo, posso assicurare perché io, essendo che ho vent'anni che mi occupo di Asband, ho ancora oggi chi ha… ti faccio un esempio, un H3D, una macchina digitale come presentata nel 2006, che ancora oggi si può utilizzare perché la qualità era già talmente elevata allora che, ripeto, magari con dei limiti di sensibilità, non è così veloce, però una macchina ancora oggi utilizzata è ancora oggi una macchina che ha un valore. È chiaro che nel 2006 costava 22 mila euro, ok? però trovatevi una macchina fotografica che dopo 15 anni una persona viene, sarà successo, viene da te e ti dice, quanto mi valuti la mia H3? E tu non gli dici, guarda, non fai un sorriso come per dire sei impazzito, ma gli dai una valutazione, 1000, 1500 euro. Ecco, questo credo che sia una cosa unica e ti farei a te una domanda, perché vorrei una conferma vedendo anche il discorso del mercato, dell'usato, mi sembra di percepire che da quando è arrivato il 907X, il nuovo dosso, sia più difficile, cioè i prezzi di questo vecchio sistema siano leggermente aumentati o no? Certo. Allora, il software di sviluppo migliore qual è? Allora, noi con Hasselblad adesso abbiamo tre possibilità. Focus che viene interamente sviluppato da Hasselblad, quindi oggi è sicuramente il software migliore per utilizzare Hasselblad, puoi usare anche il mondo Adobe, quindi Camera Roll Lightroom, diciamo, senza nessun problema. E' chiaro che se, anche qui, cerchiamo di capire il fotografo cosa vuoi fare. Io dico sempre, se tu hai già un workflow di lavoro con il mondo Adobe, non c'è motivo di passare a focus, a meno che non fai delle cose molto particolari. E torniamo al discorso delle produzioni. Per i professionalisti tanti utilizzano ad esempio Capture One. Sì. Allora, con Capture One purtroppo non c'è una compatibilità, perché c'è un po' una… Sì, ovviamente, no? Sì, anche se magari potrebbe cambiare, perché in realtà oggi diciamo Capture One è una divisione separata da Phase One, che cammina a sé e quindi secondo me non è detto che in un futuro possa cambiare. Però anche qui Focus non è conosciuto perché non è un prodotto commerciale, ma io vi assicuro che ha ben poco da invidiare con Capture One. Però la differenza è che Focus è sviluppato e serve unicamente se abbiamo queste fotocamere. Certo. Mentre Capture One è un prodotto che è nato per gestire i dossi e le macchine di Phase One, ma poi si è reso un prodotto commerciale al pari di Lightroom. Quindi, diciamo, sono due i software venduti dalle aziende e comprati dai fotografi e sono talmente validi che sono superiori ai software che produce e vende o dà in dotazione Canon, Nikon, per fare un esempio Sony, no? Quindi ormai, diciamo, è un po' uno standard. Però Focus non ha nulla da invidiare, è un software gratuito, però non ha come mira di essere venduto, perché probabilmente puoi anche gestire file di altre fotocamere, ma non lo consiglierei. Quindi, noi al nostro cliente diamo due strade più una nuova che adesso vi dico. Appunto, la prima strada è di usare il nostro Focus, che riteniamo essere un software di eccellenza. E' un software facile e intuitivo, eh? Si. Chi ha già conoscenza della... Si, ma poi se vedi a livello di interfaccia e tutto è molto simile a Capture One. Si. Perché comunque i due software, le due aziende, ripeto, hanno fatto percorsi diversi, ma i softwareisti hanno seguito una strada comune. Però, come dicevo prima, se il fotografo lo usa già con soddisfazione Lightroom o Camera Raw, io non gli faccio cambiare il suo flusso di lavoro. Ah. A meno che non fai una cosa che ritengo dove ci sia una criticità, cioè faccio sempre esempio della riproduzione, dove lì allora la gestione colore è assolutamente raffinata. In questo caso, ecco, quando mi chiedono, ma com'è il focus rispetto a Capture One? Dico, è all'altezza, non è raffinatezza di Capture One. Per esempio, facciamo esempio gli stili di Capture One, cioè perché non è pensato per fare quel tipo di cosa o di funzionalità extra, ma ha le funzionalità di base. Però quando andiamo a vedere la gestione colore vi è sicuro che non c'è sosta nel mondo che è così accurato quanto Focus. Quindi, in quel caso, i nostri clienti che utilizzano le nostre fotocamere dove hanno bisogno veramente della massima precisione sulla cromia, io consiglio vivamente Focus e di solito fanno così. Poi? La terza strada è Focus Mobile 2. Praticamente, allora, da sempre con le nostre fotocamere, cioè almeno dall'arrivo della prima X1D, abbiamo la possibilità tramite iPad di controllare la fotocamera e di visualizzare le anteprime. Quindi, se ci scenari, io fotografo posso gestire il remoto, il fuoco, comunque la fotocamera, oppure posso dare l'iPad o l'iPhone, cioè dare l'applicazione al mio cliente, che così, invece che stare vicino a me, dietro al mio display, guarda le foto, le anteprime, che riceve, diciamo, il wireless, il Wi-Fi, e quindi può giudicarle o può addirittura condividere. Chiaramente parliamo di anteprime. Adesso Asab ha fatto uno step ulteriore, molto importante. Questa funzionalità c'è solamente su X1D2 e su 907X. Quindi, per esempio, non c'è su H6D o sulla prima X1D, dove possiamo fare due cose che sono molto interessanti. La prima è trasferire il file in Wi-Fi. Io, come dicevo prima, è vent'anni che mi occupo di... faccio questo mestiere e da almeno 15 il sogno del fotografo è di trasferire il file RAW di un medio formato senza fili. Ecco, oggi lo possiamo fare e lo facciamo su un iPad. Pensa che ci voleva, cioè, cavo grosso così... Esatto, attenzione, posso sempre collegare un USB, se ho un iPad USB-C, la fotocamera chiaramente in quel caso è un po' più veloce. Ma vi assicuro che un iPad ha una grandissima velocità e comunque mi tolgo il filo che, ripeto, è un qualcosa che dà fastidio. Ma non solo, andiamo oltre. Oltre a poter trasferire in pochi istanti il file, lo possiamo già gestire direttamente nell'iPad. Quindi, la cosa bella è che, volendo, noi possiamo addirittura fare a meno del computer. Non so se si può vedere bene, abbiamo prima scattato una foto. Qui posso scegliere o scatto i memorizzati su scheda e dopo, con un tap sullo schermo, trasferisco, oppure vado direttamente qua. Quando vado direttamente su Focus Mobile 2, io ho un software che, praticamente, mi consente di gestire... Ah, quello è sempre un iPhone? Eh, ripeto, è un piccolo Focus, adesso... Un po' piccolo. Però no, in effetti, se il file è bello, basterebbe poco di post-produzione. Un po' piccolo, diciamo, della foto, però poi arrivo in studio e voglio fare cose fini su un computer, magari un monitor calibrato, su una situazione un pochettino più tranquilla, ma io posso esportare il file però, quindi... Però, per esempio, il cliente, per far vedere questo è un vantaggio enorme. Certo, qui si. Perché più o meno, si, cioè, guardi, verrà così, più o meno, poi se viene raffinato, no? Cioè, definitivo, però, tu hai già una campione... Si, si, posso far vedere in tempo reale, diciamo, già accettare, non so, una maschera di contrasto, un bilanciamento, magari una conversione in bianche e nero. Cioè, posso fare, diciamo, tutte le funzioni che mi aspetto dal software, diciamo, desktop che ho sul computer. Ah, mamma mia. Cioè, mi tocca comprare. Bene, grazie Gianluca. Gianluca Maudi. È stato un piacere, grazie a te di avermi invitato. Bene, ringrazio davvero tantissimo. Grazie.